guarda se la facciamo più di 9 il sarosk si può usare ragazzi sui giovani giociano il sarosk ah sto luigi il sarosk si può utilizzare tizia si si eeeh come non si può usare come non si può usare come non si può usare come no? adesso ti chico dalla stanza no 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 hai tolto le skin io ho già tolto prima tutto hai l'armatura per tre? allora ho delmetto sapper helmet comodo vest, engineer gloves e fast shoes che sa vabbè bene cazzo le armi cosa ti usano? eeeh la mia pagina eeeh la black dragon l'autore volle c'è il mio perere amare eeeh quale non capito vai questi parlano di non so cosa ma sono federico fa il cecchino ah? alzio ma vuole puzza eeeh davvero un passaggio per salire sopra quando noi dobbiamo difendere no mai vogliono passare ma il taxi a quanto lo paghi di solito ma di genere adesso noi dobbiamo difendere oh guarda qua c'è un cretino entrato madosca ma ci sta pure scritto esl fatelo checcare ah io altrimenti ho scritto chi entra è gay entra di tutti uno dopo l'altro entravano lord vabbè erano tutti gay o defenda black knife fatemelo fatemelo vai 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 eeeh 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 il cecchino deve salire eeeh eeeh una bomba sui pesci alla 1 bomba sui pesci alla 1 raga contai nessuno nessuno che conta alla mia raga alla 1 alla 1 eeeh 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 federico lagga raga federico lagga federico sto laggando nel muro raga 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 mi sentite? si adesso si ok laggo proprio finora è andato verso io ora laggo raga eeeh dietro defusa eeeh le fone a destra c'è il medico l'altra defusa a destra l'altra defusa a destra è di container dietro l'altra defusa vado a destra l'altra defusa ci stanno orando lol no perchè quello laggaver e mi ha fatto il casino di un e' perso Sì che si possono usare Sì che si possono usare Sì che si possono usare Ah ma siete morti tutti Che cazzo Ma raga che cazzo Dove cazzo mi mettevi tutti in dietro lo spawn Ma che cazzo Uno va in plant Uno va in plant Uno di voi dove in plant Io mi inginocchio E tu sali da bene Alla 1 Alla 1 Alla 1 Ragazzi E uno è qua Che state facendo Posso da grandi Vaffanculo Vedo che c'è la mia Ma il cazzo Eh c'ho Eh sì ma se Bomba troppo Stanno curando sono sopra E' sopra Aban sopra morto Manca il medico ragazzi Eh magari andate a curare Ecco sicuro Ah è sotto Ok faccio E' mai entrato un tizio E' lo gancio Dovete parlare poco Cosa? In team Vado sopra Ragazzi Il cecchino vado a vedere in mezzo Vado a vedere Non deve stagliare il cecchino Il cecchino va in mezzo No c'è di nuovo In mezzo? Due ragazzi Due 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 Come si è incastrato Ma è una giornata strana Presta Vabbè non hanno più medici Ah Ho trovato la bomba e mi hanno ucciso La bomba è sotto il passaggio Nella strada Nella strada Comunque Medico Se riesci a curarmi Poi torna in mezzo Arriva arriva Lo sai come oggi perché mi hanno ucciso Erano vicini al furgone della due Eccolo è morto 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 Resta Eccolo è morto Ma perché Shark è entrato nella partita Parano quante studi Eccolo è morto Siamo facendo esle Esci Esci E non lo sapevo Ma noi ti armiamo per twist Uno Non lo sapevo Spianto No spianta l'ingegnere Eccolo è morto Vai 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 Cazzo Ragà adesso un cacchino in mezzo un medico sotto due, ingegnere di gruppo di blu, sassiccione su con due io? aspetta non ho capito, io cosa? parco di dio, un medico con me nessuno sale, nessuno sale ingegnere su uno ma doveva a casa? ingegnere su uno? io sono solo ma sassiccione anche su uno o due e sto andando spari su uno rega rega, sentite? ho registrato ho registrato io vado alla uno con lei ho registrato ho registrato ecco, ho vinto lo stesso ah no è arrivato uno uno, uno va alla uno io sono sempre si, 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 uno uno solo uno è andato nooo sono in uno rega, sono già alla macchina ragazzi, serve aiuto vado a terra noi andiamo ora vado a terra 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 un po' non ho già messo la mina dentro la casa non gioco, non gioco l'eclore è tutto tuo mannaggia io questo pallo è morto mamma mia, il fuoco su mano e vabbè, il kill è sopra, loro spawn allora non uscirevi lì, sborro virgo se ti stai aspettandoci fuori eccolo la grande ha arrestato in planfrica vai scappato e ha flashato infatti mi apporto dove sono punk roll bravo, ok sono sotto a casa oddio, l'anno qui nella casa tiziano è il tuo oh bravo mi racconto sei qui cheater ma la sera sempre la tua uno c'era i zombie hacker 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 ria ria e ria 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 io non li ho presi bomb planted uno che magari... arrivano si devi fare dai arrivano da dietro te veri tanto eh da 30 arrivo arrivano qualcuno contro il deck li sento camminare da dove sono io arriveranno eccolo eccolo no no ma fatta è a terra venite con il morto io venite con il morto io comunque ok la 1 di nuovo beh la tutta il suo 1 devo passare in vitale ok ok ma sono già su bomb drop sono già su camera 1 aspettate che gli sporo ai piedi le sporo ai piedi guarda dietro da dietro ragà dei binari oh ragazzi è dietro ma affatto ragà cazzo arriva da 3 arriva un altro? eh che pezzo è vabbè aspettate non dovete rushare non c'è chi lo da dietro è maffatto dove andiamo 10 e 4 troviamo black quanto piano piano eh ma è già uno è alla 1 uno è alla 1 ok ok aspettate morto hai visto? uno è da freni prendetelo ho la granata io sto pericolando a breve lo forno no rega loro spawn medico se riesci non metti il ferro eh che cazzo mi aveva dietro il muro no non da lì non da lì stai 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 la mamma che tortisce 2 2 fatemi salire cazzo stai in più vere mazze e c'è chi o non mi farei salire perché è un po' in mezzo uno già dentro casa rega uno sotto sotto sopra o sotto? sotto 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 e dato chi è che m'ha usciso? ho fatto un po' in mezzo buonissaro ma io sembra con questo qua sto sputtando mi è ucciso sempre eh eh ce ne ho uno sotto di me non riesco a prenderlo ecco ok come prima un passaggio nononononono no nonononono nel mezzo per camminare della sua vita mi ritrovano con una cellulare con la direttura ma non sto vedendo meglio min non guardare alla destra, guarda alla sinistra il mouse che si gira a cazzo non muore, sta prontando aiuto uno sopra i verdi cazzo cazzo stai sopra 4 sopra cazzo è l'ultimo no, si ok dobbiamo spiantare nooo non lo spara, non lo spara ma sto ricchio vabbè come l'ho ucciso io prima Federica è stata più bella ma come è andato BAM ground start all'altro sono tutti alla 1 ok come sei? li ho visti passare in gruppo andam solo alla 1 mi ha fatto ma perchè sei andato all'accio? sii gannaggia la puttana perchè prima non funziona torna nei tuoi mamma fans e non nei tuoi team ok bamba drop su blanco nooo che c***o con camera attendo black panta la panta non mi piace basta adesso aiutami quasi morto quasi comunque bomba drop sul blanco t1 eccolo tiziano tiziano c***o quasi morto dove per piantare morto ora li andrà il medico arrivando uno da dietro ok ok lunad non arrivi ancora uno si deve che sta piantando dai metta il medico su ac马 io sono luis si sta piantando si sta piantando tutto tutto mmm che bello il pisello però eh e risponde vabbè se tu stai dando in merda di questo ma perché no la connessione a questo è andato in merda uno 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 è andato in merda si 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 se non sono tutti tutti no ho visto solo uno sopra no sono in due sono in due tre ok medico morto percottino bomba non da me no fate scadini complimenti max per il tuo putteggio bravissimo ho mai fatto l'ingegnere, stai zitto ha spruccato una bomba in un modo bellissimo hai sempre il medico non faccio mai il medico ma stai zitto che la scorsa adesso l'hai fatto da medico anche da alfa infatti questo è quello che faccio eh sì io l'ho fatto da rifle e mi dispiace ho fatto lo screen quanto mai abbiamo preso così tanto ci stavamo abbiamo fino alle 11 stasera dopo xp, ho 75% di soldi quindi questa è finita ma adesso che si fa? abbiamo vinto tu esci per il gioco la trasmissione di dati aspetti che trasmetti i dati ci metterà un secolo ci sarà una collezione di merda ok chiudo il gioco sono già 17 in preparazione per il caricamento dei file file la trasmissione di investimento dei file è un concetto di potere la trasmissione di